Musica Benvenuti a tutti alla rassegna stampa di oggi mercoledì 25 gennaio questa è la rassegna stampa nella quale noi tutte le mattine leggiamo i giornali il resto del carlino e il corriere adriatico, le edizioni di Pesaro e Urbino oggi la chiesa cattolica fa memoria della conversione di San Paolo e lo vediamo con l'aiuto della grafica il sole sorto alle 7.31 e tramonterà alle 17.10 il cielo sarà oggi parzialmente nuvoloso per nuvole basse con temperature lieve diminuzione eventi nord-occidentali di brezza tesa o moderati lungo la costa per domani invece avremo un cielo parzialmente nuvoloso sempre con schiarite nuvole basse con schiarite nel pomeriggio le temperature sono in lieve diminuzione nei valori minimi per venerdì 27 vedete ancora cielo poco nuvoloso con temperature stazionarie le massime invece in lieve aumento il tempo sarà stabile per l'intero fine settimana cominciamo a leggere i giornali cominciamo dalla pagina di Fano del Corriere Adriatico ha frenato per 12 metri responsabilità evidenti il fratello di Jacopo Monaldi vuole la verità il funerale si svolgerà in Duomo stiamo parlando dell'incidente della morte di questo 24enne Jacopo Monaldi i funerali si svolgeranno nel Duomo di Fano lo ricorderete il giovane morto per le ferite riportate in un terribile schianto sulla litoranea adriatica la famiglia in attesa del nulla a osta definitivo da parte della magistratura che ha aperto un'inchiesta per appurare le cause e la dinamica di questo incidente l'ultimo saluto sarà ufficiato da Don Giuseppe parroco di Bellocchi il nulla a osta forse arriverà domani sull'aeroporto invece sempre sulla pagina di Fano del Corriere sito aggiornato e bilanci online la richiesta di noi giovani al nuovo amministratore per garantire la trasparenza ancora dalle pagine locali chiaruccia non si tocca ne parleremo con Seri grande interesse e partecipazione all'incontro che si è tenuto lunedì sera a Villa Adelaide a Bellocchi di Fano per discutere i problemi del quartiere amici di Bellocchi partecipata a discussione sui problemi della zona mentre la memoria della dalla Shoah ai Disapparecidos consiglio comunale a teatro le iniziative con la presenza di una madre di Plaza De Maio e poi ancora sempre dalle pagine interne del Corriere Adriatico Tributi non si torna indietro siamo sempre sulla pagina di Fano ma se ne verifichi la gestione il capogruppo Riccardo Severi boccia la retromarcia sulle entrate proposta da Sinistra Unita quando si votò per Aset Holding e Duomo GPA loro erano in giunta e quindi ci potevano pensare Sapori e motori a luglio ecco l'Antinotte Rosa presentata la Kermess giunta la decima edizione Pedini saluta la direzione dalla Valle del Cesano il piano casa piace a tutti siamo a Mondolfo così riparte l'economia applauso di CNA e coordinamento tecnici ecco come e dove si inciderà a Marotta e poi ancora Catria sempre aperte le piste invasione di snowboard e scida oggi a domenica gli impianti sono in funzione dalle 9 alle 16 in più escursioni e ciaspolate dunque tutto pieno per tutto pieno per quanto riguarda la montagna le nostre montagne quelle che sono qua vicino vicino a noi ieri c'è stata questa pausa per le condizioni meteo non perfette però fino a domenica ci sarà davvero una vera e propria immersione nella neve oggi c'è l'apertura quotidiana degli impianti sul Monte Catria per la gioia di tantissimi appassionati della neve la misericordia di Papa Francesco per la Valle del Cesano per le feste decennali della Madonna delle Grotte si riceverà l'indulgenza dalla cronaca di Senigallia stangata Tari costa il doppio ora la marcia sul comune la protesta degli albergatori l'opposizione invita i cittadini a partecipare al consiglio comunale gli operatori già le prenotazioni sono paralizzate si vuole suicidare un settore si rompe l'attacca i pazienti in coda all'ospedale sempre da Senigallia l'esame diventa un'odissea nella sala d'aspetto piena una signora si sente male minaccia la sua ex fidanzata di sfregiarla con l'acido e riprende lo stupro con il telefonino le immagini usate per ricattarla l'amante accusato di violenza sessuale aggravata e stalking la difesa dell'uomo non l'ho perseguitata dice i rapporti erano consenzienti stiamo parlando di un incubo che è durato oltre cinque mesi tra l'aprile e l'agosto del 2015 vittima una trentenne senigalliese sposata e madre di famiglia ancora dal corriere adriatico il vicino spia dalla finestra e fa catturare il truffatore siamo ad Ostra incastrato un giovane che era riuscito a farsi consegnare 4 mila euro da una 65enne la donna con il marito invalido si era fatta raggirare con il racconto dell'incidente del figlio è una delle truffe più in voga in questi ultimi tempi a Iesi invece una donna muore al pronto soccorso era in attesa di un letto da 20 ore pazienti disperati barelle in terza fila stop all'arrivo di ambulanze non c'è più un posto libero medici e infermieri allo stremo un'urgenza può far saltare la situazione e poi vergogna Enel diffida e class action i terremotati ora marciano su Roma oggi la protesta con gli sfollati del Lazio il 2 febbraio altro maxicorteo da agosto da agosto soltanto parole tensione tra la regione Marche e Coldiretti per una gestione dei moduli dedicati alle stalle e l'esasperazione oltre alla rabbia c'è la regione che diffida lo sapete la regione Marche che diffida l'Enel in procura per interruzione di pubblico servizio e il Codacons che rincara la dose minacciando appunto una class action niente piccone invece siamo sulla pagina di Pesaro del Corriere niente piccone per il Principe l'ex hotel diventerà un residence il sindaco Matteo Ricci e l'assessore delle noci incontrano i proprietari una deroga ne consentirà la trasformazione soluzione per la struttura simbolo del degrado della zona turistica e poi il prefetto il prefetto di Pesaro Urbino che consegna benemerenze in occasione della giornata della memoria chiamiamo giornale andiamo adesso sull'arresto del Carlino in apertura la discarica sul San Bartolo proprio sotto la croce una discarica abusiva sotto i rovi rifiuti nel parco questa è la fotografia con il titolo l'hotel Principe sarà ristrutturato invece delle noci annuncia il comune a zera oneri e tasse locali per chi investe nel turismo e poi c'è la notizia qua di spalla vedete Aguzzi ripartirebbe dai colli al metauro la notizia è che è in lizza per appunto candidarsi a sindaco per questo nuovo comune allora ripartiamo da questa notizia colli al metauro rispunta Aguzzi siamo sulla pagina 14 del resto del Carlino manovra in vista delle elezioni per il sindaco del nuovo comune l'ex primo cittadino di Fano candidato in pectore lui dice mi fa piacere la proposta mi è arrivata da persone del centro-sinistra che pensano al territorio dunque l'ex sindaco di Fano Stefano Aguzzi potrebbe essere candidato sindaco di Colli al metauro e l'indiscrezione su questa candidatura di Aguzzi alla guida del nuovo comune che all'incirca sono 12 mila abitanti e che è nato dalla fusione tra Monte Maggiore al metauro Saltare e Serrungarina circola con insistenza da alcuni giorni anche se il diretto interessato frena la cronaca dal resto del Carlino correte vuole suicidarsi siamo a Marotta una donna è stata salvata è arrivata questa telefonata anonima al 118 che evita il peggio ma la 43enne ora purtroppo è in coma c'è una donna che sta male ha tentato di uccidersi ha detto questa persona al telefono fate presto e subito dopo aver pronunciato il cognome ha chiuso senza fornire le sue generalità e altre indicazioni questo più o meno è il tenore della telefonata che è arrivata al 118 ieri mattina da una cabina telefonica pubblica di piazza Roma nel cuore della cittadina di Marotta una chiamata anonima misteriosa però provvidenziale perché poi ha consentito come dicevamo di salvare questa donna questa tragedia che è stata soltanto sfiorata un mix di alcol e di farmaci che è stato utilizzato nel tentativo disperato di farla finita poi tutti i dettagli li troverete sulla pagina del resto del Carlino così come da cartoceto una bambina si è sentita male a danza a momenti di apprensione intorno alle 19 di ieri tanta cronaca che avremmo dovuto darvi anche noi nel telegiornale ma purtroppo non ce l'abbiamo fatta comunque donna si sveglia invece a Fossombrone per un rumore aveva un ladro in camera tentativo di furto in serie nella notte forzati porte e garage da cui però non mancherebbe nulla dunque un altro ride di furti a Fossombrone hanno provato a rubare ma senza riuscirci in un caso il malvimento è entrato in una buttazione di via fermi nei pressi del campo sportivo dove all'interno c'era una donna che viveva da sola poi oggi c'è il verdetto delle cipolle di Urbagna questa notte si è concluso il rito di previsione oggi è la conversione di San Paolo quindi la signora Emanuela Forlini che vedete nella fotografia con davanti il tagliere con 12 spicchi d'aglio con sopra del sale la signora Forlini così come è stata tramandata dal papà dal padre ha messo nel suo balcone che guarda oriente questo tagliere e questa mattina provvederà a vedere tra virgolette a leggere non c'è niente di magico di esoterico è soltanto una cosa che si tramanda nel tempo sono i vecchi riti della campagna ecco provvederà a leggere e a fare una sorta di previsioni mese per mese dopo è inutile stare a fare commenti o quant'altro insomma è una tradizione va presa come tale a volte ci si prende a volte no è una bella tradizione che si porta avanti che la signora Forlini fa bene a portare avanti poi è chiaro che c'è la meteorologia è una scienza imperfetta inesatta non sarà mai scientificamente provata o comunque vera al 100% andiamo adesso velocemente per chiudere sulle pagine di Fano del resto del Carlino profughi il caso in Inghilterra Ponte Sasso scelta sbagliata parla il fanese Rapa console onorario nel Regno Unito stiamo parlando dei profughi che sono in attesa nell'ex colonia di Ponte Sasso potrei verificare l'interesse di investitori britannici ma deve essere chiaro che cosa si vuole fare poi sotto parcheggiatori abusivi in fuga da Pesero il dibattito prosegue secondo Fratelli d'Italia tutta colpa dell'ordinanza di Ricci del sindaco di Pesero poi l'ultima pagina dal resto del Carlino dalla Shoah a Giulio Reggeni un ponte tra le memorie spazio anche al dramma dei Desaparecidos la ricorrenza si celebrerà il prossimo 27 di Gennaio non c'è altro grazie per aver seguito la nostra rassegna stampa buona giornata e a domani grazie per aver guardato